Gol in finale di Champions o gol in finale di Mondiali? Eh, questa è dura, eh! Mondiale! Una cena con Holland o un gol nel derby Catania-Palermo? Eh, gol nel derby! Film o serie TV? Film! Rap, pop o reggaeton? Reggaeton! Rituale pre-partita? Eh, ne ho tanti! Io sono molto credente! Premier League, Liga o Serie A? Va bene nella Serie A! Suarez o Lewandowski? Lewandowski! 2 Signore alla� nada! 5 Del gruppo Farmer Un belitointelligible Lora del gruppo Farmer